ed eccoci qui in questo nuovo video Roma che vince 1-0 partita con non pochi patimi d'animo verso la fine soprattutto Gioia Pedro con il miracolo di Lui Patricio davvero ottima parata quella che ha letteralmente salvato il risultato tra i migliori in campo anche Lui Patricio e tra i migliori in campo anche Gioia Pedro e ci metto anche come cazzo si è chiamato lì Altare e Goldaniga buon Cagliari soprattutto negli ultimi 20 minuti del secondo tempo diciamo che ancora il gioco si tocca migliorare parecchio soprattutto negli ultimi 20 mesi che le occasioni le creiamo però mancamo sempre sull'ultimo passaggio diciamo scusate ma so con piede dentro una fossa secondo me mamma mia sto male che a dir male è a dir poco però ho visto la partita ci è tornata di due parole sinceramente niente di imprescindibile oggi non rotto niente anche perché ho la forza manco per alzarmi dal letto sinceramente ma però ho visto la partita come gioco neanche è stata chissà quanto spettacolare però oggi l'importante è vincere sinceramente anche perché quando insegui l'importante l'unica cosa che conta è vincere gioco alla fine conta in conta mi è piaciuto sto Sergio Reveira nuovo acquisto dalla Roma che ha fatto subito rigore e subito gol poi va bene il secondo tema è un po' calato ma c'è sta anche perché è arrivato subito in campo quindi già è tanto poi anche Miles il terzino è piaciuto parecchio sicuramente meglio De Vigne che sinceramente non ha fatto granché ho visto un granché De Vigne anche Zagnolo sì e no diciamo secondo tempo ha fatto una sgruppata delle sue con tiro a incrociare bello ma poi per il resto non è stato granché incisivo secondo me incide molto molto di più secondo me sta squadra poi le fa molto molto di più e niente però l'importante era vincere anche perché le altre hanno vinte tutte la Juve ha vinto e le altre la Lazio ha vinto le altre ancora hanno giocato ma però e niente oggi l'importante era vincere e abbiamo fatto rigore c'era il primo secondo me non c'era stavolta gli arbitri non ho visto niente di macelli diciamo così e niente bene così adesso pensiamo alla prossima tra l'altro si è infortunato anche Pellegrini mi pare ho letto prima della partita tanto oramai l'infortunio al giorno toglie il medico ritorno il tifoso l'umanista siamo fatto l'abitudine e quindi poco la di e niente bene così l'importante come dico sempre era vincere e appuntamento alla prossima sempre 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 forza l'UMA se chiudesse sto cazzo del telefono pure capisco perché